Adesso andiamo dentro nella serra ecco qua più che altro la usi d'inverno? Semenzaio, beh adesso ci sono i cetrioli, c'è un po' di prezzemolo, ancora semenzaio e un po' di basilico comunque è un deposito e più che altro è un deposito e un semenzaio ecco perché d'estate si produce poco. Ok.